Il patto per la rinascita annunciato dal Governo assomiglia a un libro dei sogni. Secondo l'Istat, negli ultimi due mesi sono andati in fumo quasi mezzo milione di posti di lavoro. Al Governo non chiediamo chiacchiere, ma di finanziare immediatamente la Cassa Integrazione Inderga per chi ha perso il lavoro e per tutto il 2020.